Grazie, signora Flavia. Bene, bene. Il festival degli abbracci? Mi sembra che non manchi nessuno. Manco io. Bentornato in questa casa, Bruno. Grazie. Amore mio, Salomonti ha preparato il tuo piatto preferito. Costanette alla griglia! Che meraviglia, dovrei perdermi più spesso. Non dirlo neanche per scherzo, ci hai tenuti tutti col fiato sospeso. Non mentire, eri felice al pensiero che mi avesse mangiato un leone. Certo che no! Ma ti permetto di parlarmi così solo perché mi sei mancato molto e adesso ci penso io anche. Ah, sì! Sembrava che fossero passati otto giorni a giudicare dallo stato in cui l'abbiamo trovato. Per fortuna sta bene ed è bellissimo, come sempre. Direi che Bruno ha già sofferto abbastanza la sete nella foresta. Perché non ci portate qualcosa da bere? Sì, vi preparo subito una bella limonata fresca. Sapete che vi dico? Io preferirei qualcosa di più forte. Hai sentito che cosa ha detto Salomont? Questa sera si festeggia! Grazie!